No! Ciao. Sì, scusa, non ce l'ho fatta a tornare in tempo. Sì, mi hai fatto saltare il porto. Sì, lo so, mi dispiace, senti, sto tornando adesso, tutto a posto con Christopher. Io me ne vado, Chris, me ne vado. Cosa? Hai sentito che ho detto? Ho già preparato tutto. Prendo nostro figlio e ci ne andiamo da qui ora. Adesso riattacco e me ne vado, Chris. Linda, un momento, ascoltami. Fu in quel momento che cominciai a pensare a Thomas Jefferson e alla dichiarazione d'indipendenza. Quando parla del diritto che abbiamo alla vita, libertà e ricerca della felicità, e ricordo di aver pensato come sapeva di dover usare la parola ricerca. Ricerca. Perché la felicità è qualcosa che possiamo solo inseguire e che forse non riusciremo mai a raggiungere. Qualunque cosa facciamo. Come faceva a saperlo? Linda! 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 Grazie a tutti.